Oggi volevo mostrarvi questa, l'ho ricevuto qualche tempo fa come risposta a una mia lettera che ho mandato a una persona per me speciale, per ringraziarlo del lavoro che sta facendo, Clive Kassler è uno scrittore di romanzi, d'avventura, di cui possiedo una buona collezione, come potete vedere dalle immagini, e mi ha risposto, si ha risposto a una lettera che gli ho inviato il tempo fa, nel quale volevo ringraziarlo per il lavoro che sta facendo, questa lettera all'interno contiene un messaggio molto speciale per me. Oggi ho anche acquistato l'ultimo libro che la Longanesi ha messo in vendita, che è Fuga, un romanzo, è un'avventura di Isaac Bell, le avventure di Isaac Bell sono ambientate fine 800, prima il 900, mentre il cavallo di battaglia di Clive Kassler è sicuramente Dirk Pit. Devo condividere con voi questa mia grandissima soddisfazione, adesso non so quanti di voi abbiano avuto la possibilità di vedere Clive Kassler di persona, io purtroppo no, avrei piacere di ricevere un suo autografo su uno dei suoi libri, però questo diciamo che è sicuramente forse anche qualcosa di più. Lui ha perso 5-10 minuti e mi ha scritto, ne sono molto felice, lo volevo ringraziare. Thank you, Clive Kassler. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.